ah car armato guarda dove mi fa spawnare il gioco in mezzo ai car armati buongiornissimo caffè eccolo che stava pensando un attimino ai problemi esistenziali cazzo era ma con che cazzo mi ha fatto saltare lascialo sono istancabile ora raga dai 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 brutale il mio è quello allo spawn no 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 è vero no è vero no è vero oddio sono brutale adesso nuclear fatto easy eeeh eeeh non mi il Grazie a tutti.